Da questo cortiglio gli occhi si asserenano, la mente si tragullizza e noi adesso entriamo con gli occhi serenti, prego! E' arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre vuote con la donna su tre e poi è arrivato in aerostato e poi forse... Abbiamo più domande da internet, da facebook, Ivana scrive, facebook maestro la seguo dal suo sito, non posso essere con voi perché mia nonna ha la disenteria, mi dia una parola di già fatto? Dissenteria La disenteria? E' dissenterata Ma vabbè comunque, quale è la domanda? Chiedono una parola di conforto per sua nonna Ah, la disenteria, la disenteria è un potere un po' più facile perché... Dissenteria da dove dicevi? E' dissentata E' dissentata e... No vabbè... La disenteria... Eh, questa disenteria se si lava un po' meglio può essere che... Se si lava un po' meglio ci passa Se si lava un po' meglio ci passa Se si lava malamente, magari, non si congetta bene E questa disenteria non ci passa Allora, se lo avansi meglio poi ci passa